Italiano. Lucciole marine bioluminescence, lasciati incantare dal splendore sommerso. Conosciamo tutti la magia delle lucciole, vero? A Rottan queste meraviglie luminescenti vengono affettosamente chiamate tremolanti. Hanno la capacità unica di ipnotizzarti con la loro incantevole serie di luminosi impulsi di luce. Chiudi gli occhi per un momento e immagina, con la famiglia, gli amici e i compagni di immersione appena incontrati, di diventare parte di quei pochi eletti il mondo che sono stati testimoni di un affascinante fenomeno sottomarino. Questo spettacolo si svolge solo in un piccolo angolo del mondo. Potresti aver sperimentato le immersioni notturne nella grande barriera corallina australiana, avventurarti alle Maldive, esplorare la Polinesia francese e immergerti alle Hawaii, alle Galapagos, a Raya Ampat, nel Mar Rosso o in qualsiasi altro luogo sottomarino esotico di tua scelta. Una cosa però è certa, l'affascinante rituale di corteggiamento delle lucciole marine non lo troverete altrove se non nell'oceano caraibico. Cosa rende questa piccola creatura così straordinaria? Nel tentativo di corteggiare una compagna, il maschio si affiree e fliemette un affascinante. Serie di impulsi blu di bioluminescenza. È qui che avviene il vero spettacolo. Il rituale di accoppiamento delle lucciole marine può essere descritto solo come un'esperienza incomparabile. Come ha affermato il famoso subacqueo Brian Hyatt, non è solo un'immersione, è un'esperienza. Questi affascinanti ostracodi attirarono per la prima volta l'attenzione del professor Osamu Shimomura alla fine degli anni Sessanta, e successivamente le specie caraibiche iniziarono ad essere studiate dal professor James Murray nel 1980. Scopri diversi tipi di bioluminescenza in questo mondo incantato. Dai din flagellati che reagiscono al movimento delle tue mani, dalle meduse luminose alle meravigliose stelle fragili che ti lasceranno a bocca aperta, non mollare il regolatore. Unisciti a noi mentre. Approfondiamo le profondità di questo fenomeno sottomarino unico e scopriamo il fascino delle lucciole marine. Benvenuti nel lato oscuro.